Oh, dai, oh! Intanto pedalate che vi faccio vedere cosa andremo a fare da qui su su portiamo il ginocchio al pezzo e il vomito verso il ginocchio, dovete ma non state pedalando però eh sì, eh mica dovete perdere tempo e allora, portate anche se volete su se volete, stendete piegate il braccio in modo che lavora anche il precipite oltre che gli addominali ok e riteriamo anche su a pedalare pensate che fortuna quattro tre due uno stop intanto che aspettiamo la signorina Tabata facciamo bridge walk quindi su e è arrivata la signorina quindi ci prepariamo va qui va uno due tre quattro cinque sei un u u guardate guardate sei guardate sentite tutto il bianco lo sento solo io lo sentite anche voi? siete sicuri? Bene, andiamo, su, 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 e su, 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 qui, su, 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 e scendo, qui, visto che non ce l'ho fatta far prima. Da qui, ti colleghi, su, 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 qui, su, forti. 3,2,1 continuo 3,2,1 cambio gambezza su su qui chiaramente continuo e poi subito subito iniziamo con da qui vado su su qui su 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 e su e mi preparo dall'altra parte qui su 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 sub ci troy rua su 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 costri Da qui, solentino, solentino, salgo, guardate voi dove volete mettere le mani, tre lati, dietro la schiena. Ora, da qui, appoggio, sento, appoggio, sento, appoggio, su, appoggio, su, su, brucia, un po', rest, no, non è vero, rest, sempre la stessa gamba, solo appoggio, molto lunghi, scendo, salgo, scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, 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 3, 2, 1, rest, bene, ripetiamo tutto, collegamo apposta, 3, 2, 1, vado, passo, inchino, su, torno, passo, inchino, su, torno, passo, inchino, su, torno, passo, inchino, su, torno, passo, inchino, Salgo, scendo, su, scendo e scendo, su, scendo, su, scendo, su, scendo, 3, 2, 1, wrist, intermo. Salgo, scendo, su, 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 Tutto bene! Bene, faccio, giù, su, scendo, qui, scendo, 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 bene, tutto bene, male alle gambe, e anche un po', visto che abbiamo fatto, avanti, possiamo fare anche l'altro, vedete, e ma lì lavora tutta la gamba, vai, dai, aggiorniamo, che aggiorni, dritte, una gamba, e da qui, e qui, e su, mi viene un crambo, al femorale, a vero viene il crambo femorale, della gamba di terra, falso e chiudo, la chicca voleva andare avanti, lo vissa, e sulla gamhezza, l'equilibrio, sono partita troppo velocemente, su, e su, e, 3, 2, 1 ancora 2 perché avevo perso l'equilibrio avevo perso l'equilibrio 3, 2, 1 lato scendo salgo matrix basta perché sapete che a me piace molto il matrix perché poi qui allunga anche 3, 2, 1 e la chicca è contenta che si allunga ancora 1 va cambiamo parte perché giustamente non si può allungare solo a destra si deve allungare anche a sinistra ma esagerate al massimo cadete per terra 3, 2, 1 wrist ok 3, 2, 1 e qui su qui e qui la chicca voleva andare avanti perché io sono buona lei no mi faccio recuperare qui e su qui e lì facciamo il matrix crunch creativo qui giro qui torno è ancora migliore per quanto riguarda la chicca perché qui giriamo anche e quindi la chicca è più contenta è divertentissimo pensate a metterci anche uno stando che roba 3, 2, 1 cambio qui giro qui su ho sbagliato non sono più tornata scendo giro presa dalla gioia mi sono dimenticata di tornare 3, 2, 1 ne facciamo ancora 1 perché ho sbagliato su qui giro qui e torno bellissimo